La revoca dell'incarico di presidente della RSA Pistilli da parte del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, non è andata proprio giù al dottor Cosimo Dentizzi, che è passato al contrattacco rivolgendosi ai legali Vincenzo Iacovino, Patrizia Testa e Vincenzo Fiorini per impugnare il provvedimento adottato dal sindaco. Il geriatra ha diffidato il primo cittadino del capologo molisano affinché provveda anche in autotutela alla revoca dell'atto, in quanto si legge nella nota diramata agli organi di stampa, destituito di ogni fondamento in punto di fatto e di diritto per tutte le ragioni spiegate nell'atto stragiudiziale. Attraverso i suoi legali il dottor Dentizzi si riserva in ogni caso di aderire le competenti autorità giudiziarie, civili e penali per la tutela di ogni suo diritto, ivi compreso la sua onorabilità. Al Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo, ricordiamo, l'amministrazione comunale aveva contestato il mancato rispetto degli impegni assunti all'atto della nomina, impegni di natura burocratica e amministrativa. Dal Comune sarebbero arrivati vari solleciti, non seguiti da alcun riscontro, ma la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato il cluster scoppiato all'interno della struttura, una notizia presa a detta del sindaco dai giornali. La revoca di Dentizzi, decisa con un'ordinanza sindacale, ha avuto effetto immediato e sul sito del Comune di Campobasso è comparso l'avviso di aggiornamento, elenco per la nomina di due rappresentanti presso il Consiglio di Amministrazione della Don Carlo Pistilli, che prevedeva la comunicazione di disponibilità a ricoprire l'incarico entro e non oltre il giorno 6 dicembre. La parola passa ora nelle sedi giudiziarie. La parola passa ora nelle sedi giudiziarie.